Musica 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 Ora andiamo a far scegliere una carta da 100 Musica Amico 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 Anonimo Vieni a far vedere in camera Davide sta molto bene Vieni a messa poco Perfetto La carta è stata vista E viene messa così All'interno Un altro amico Ora Ora Sei d'accordo com'è che con la mescolata Non può essere finita in cima alla vostra carta Che non è il re di quadri no? Non è il re di quadri Perché? Perché non ci abbiamo ancora soffiato Quindi soffiata Soffiata Sì Sì E' questa Ok ragazzi Stavolta abbiamo 22 telecamere 1,2 telecamere Wow Bello il suo bilim 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 Comunque abbiamo mazzo le carte Scendiamo un po' su tutte le carte ragazzi Sempre anch'io ci sono Facciamo selezionare una carta Allo spettatore che non c'è Allo spettatore assente Lo sceglieranno gli zaini Che sono degli ottimi Zaini Quei c'ho ragazzi Si sento velocità? Sento io ragazzi Sceglierò io Viva Tre d'Italia Viva Tre d'Italia Viva Tre d'Italia Viva Tre d'Italia Ragazzi un attimo per prendere la carta Sforzo i male per non farla vedere Ok ragazzi Ok ragazzi Panorama bellissimo sempre Fantastico Ok torniamo la carta Andiamo a vedere al pubblico Il numerosissimo pubblico La rimettiamo dentro Ok Ok rimettiamo dentro il mazzo E tagliamo E tagliamo Tutto 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 Ora ragazzi Secondo me la vostra carta è questa Era questa la vostra? No 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 Anche poccato Non è venuto Perché in realtà voi avete scelto una carta magica In effetti il set di fiori Se lo vado a scuotere nell'aria Oh Oh Sì sì E' una cosa Poc Oh Ringraziare Tre d'Italia Perché ha un servizio veramente semplice Perché Noi siamo a Torino oggi no? Arriviamo alla stazione per tornare a Rasky Cosa succede? Il treno è cancellato Quindi Dobbiamo andare da Torino a Porte Nuova a Lingotto Per andarci su un treno E ci vediamo ancora sgridati per invitarlo Quindi ragazzi Volevo fare i complimenti per la straordinaria organizzazione di Tre d'Italia Ci sono anch'io ragazzi Ciao a tutti E adesso finisciamo sul regionale che sta facendo tutti i paesi Casale Monferrato Adesso che è bella la pulizia Adesso che è bella la pulizia Adesso che è bella Tutti Torniamo ora Piemonte compreso decorazioni di Campania Guardate che bel panorama Abbiamo un bel tour panoramico Piemonte in... Arriviamo in mezz'ora di ritardo E quindi ragazzi Per passare il tempo Adesso abitate che ha tutta la batteria Adesso Facciamo un video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao Ciao